Ciao ragazzi, un saluto dell'interesse tedesco, allora Darbert, Darbert, Darbert è vicino al ritorno in Francia, si parla di un prestito a 3 milioni di euro, più diritto, io spero, è un obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni di euro e io sono contento, sono più di contento, se dovesse veramente succedere sarebbe una cosa veramente fantastica, faccio un party, free beer per tutti, birra per tutti, sarebbe veramente una cosa bellissima ragazzi. Adesso ci sono due tipi di tifosi, sono quelli come me, contenti, poi ci sono quelli altri che dicono, non è giusto, con Dogby è andato a Valencia, ha giocato bene, Joe Mario fa anche bene al West Ham United, noi non abbiamo mai fiducia nei nostri giocatori, non gli diamo abbastanza tempo, non bastava, Darbert doveva giocare di più, gli dobbiamo lasciare tempo per svilupparsi, per adottarsi alla Serie A e tutte queste cose. Io ragazzi non la vedo così, ovviamente ve lo spiego anche perché. Allora, prima di tutto, pensate veramente che Sbaletti è uno pazzo? Anch'io l'ho criticato per alcune scelte, questo umano, qualche volta tu una cosa la vedi un po' in maniera diversa come un altro, ma in generale Sbaletti non è pazzo. E Sbaletti, ragazzi, quando guardiamo la situazione dell'Inter, quando parliamo di terzini sinistri, è una situazione catastrofica, perciò io sono molto molto contento che adesso con Asamoah finalmente viene un buon terzino sinistro perché chi avevamo ragazzi? Santon, Nagatomo e Darbert. E la situazione è veramente incredibile, no? Tu hai in rosa uno come Darbert che ti ha costato 20 milioni di euro e tu lasci giocare. Spesso ha lasciato giocare Nagatomo, spesso ha lasciato giocare Santon, finché ha fatto due o tre caprioli e poi l'ha messo fuori. E alla fine è successo quello che è veramente una vergogna se consideriamo quelle cifre, l'ingaggio, poi quello che abbiamo pagato per Darbert e spesso ha giocato D'Ambrosio a sinistra. D'Ambrosio che in fase difensiva, ok, è normale, ha le sue qualità, ma in fase offensiva fa veramente cagare, fa più di cagare. Già a destra è scarso D'Ambrosio, già a destra è scarso, ma a sinistra è proprio un cadavere, è proprio niente, è proprio uno schifo vedere D'Ambrosio. E Spaletti ha lasciato spesso giocare D'Ambrosio a sinistra e questo Darbert sempre in panchina, sempre in panchina. Perciò Darbert-Santon vince Santon, Darbert-Nagatomo vince Nagatomo, Darbert-D'Ambrosio di sinistra vince D'Ambrosio di sinistra. Ragazzi, abbiamo detto tutto, Spaletti lo vede ogni giorno negli allenamenti, perciò veramente una grandissima delusione. Poi devo dire, in quelle poche partite dove l'ho visto giocare, praticamente ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Certe volte mi sembrava che quello non poteva neanche stoppare la palla. Poi si parlava sempre, ah, Darbert è un giocatore con tanta spinta, uno di quelli terzini moderni che è molto forte in fase offensiva. Io ho visto niente, non ho visto veramente niente, sempre fuori di posizione, poi aveva paura. Ogni volta quando ha toccato la palla è sempre andato indietro, ha fatto un passaggio di sicurezza. Veramente un giocatore vergognoso. E diciamo, guardiamo anche un po' il curriculum. Lo so, è giovane, mi pare, c'ha 24 anni. Ma fino adesso dove ha giocato, cosa ha dimostrato? Ha giocato in Portogallo. Ho detto tutto ragazzi, il campionato Portogallo lo conosco poco. E poi ha giocato in Francia una stagione a Nizza. E a Nizza è stato il terzino che ha fatto più gross in assoluto. Ha fatto il record di gross nella stagione 2016-2017. E perciò c'erano tanti che dicevano, ah, questo qui è uno molto forte in fase offensiva. Ma con tutti questi gross che ha fatto, non so adesso quanti, 150 gross, non so quanti, ha fatto 3 assis. 3 assis con il Nizza. Perciò io non so come mai siamo arrivati a quella cifra veramente esagerata. Per me D'Albert fino adesso non ha dimostrato ancora nulla, veramente nulla. E diciamo, adesso se torna in Francia, non sarà il campionato dove lui può dimostrare il contrario. Perché il campionato francese, nella mia opinione, è veramente uno dei più scarsi, più vergognosi. Veramente un campionato scandaloso. C'è il Paris Saint Germain e poi il Monaco dove lui adesso potrebbe andare. C'hanno un po' di soldi. Ma veramente un campionato che non mi tira, non mi interessa. Io adesso per l'Erasmus vado in Francia, entrò in Francia per studiare lì un anno intero. E vi posso dire, non me ne vado per il calcio. Veramente non entrò per il calcio che giocano lì. Perché il campionato, ragazzi, una media di 22.000 persone. Un valore di 2,8 miliardi di euro. La premia, ragazzi, siamo a 7,3 miliardi di euro. Sono veramente due mondi diversi. E diciamo, se tu convinci in Francia, non vuol dire tanto. Perché anche al Nizza ha giocato abbastanza bene. E perciò quelli che dicono, eh, gli dobbiamo dare una possibilità. Mi piacerebbe vedere D'Albert in un campionato forte. In Spagna, in Inghilterra, non so dove. Ma in Francia cosa vuole dimostrare. Nel campionato francese. E poi Monaco, un club che veramente non ha passione. Un poca tradizione. Un club con una media di tifosi di 9.000 persone. Lì a Monaco vai per le macchine, per altre cose. Ma non vai per guardare il calcio. Il Magdeburg, ragazzi, della Serie C in Germania. C'è una media di 18.000 persone. Allora il doppio del Monaco. Un Monaco proprio un club che non mi tira. Non mi interessa proprio pochissimo. Niente, ragazzi. Scrivetelo nei commenti voi cosa ne pensate. Potrebbe anche essere che D'Albert se ne va al Borussia Dortmund. Dove c'è Lucien Favre, il suo ex allenatore. Che è stato il suo allenatore con il Nizza. Potrebbe anche succedere. Io spero veramente che se ne va, ragazzi. Spero che se ne va. Rispetto a tutte le opinioni. Scrivetelo nei commenti. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Se siete quel tipo di tifosi che sono tristi. Che dicono che gli dobbiamo dare più fiducia, più possibilità. Io non lo vedo così. Perché per me è stato veramente una delle più grandi delusioni in assoluto. E pesa veramente sul bilancio. C'è un ingaggio alto. Perciò via, via, via. E se viene una società pazza fuori di testa. Che ci dà attorno ai 20 milioni di euro. Io sono veramente più di contento. Faccio un par di free beer per tutti. Sarebbe una cosa fantastica. Ragazzi, alla prossima. Ci vediamo in un altro video. Ciao ragazzi.